Nanni Moretti in un suo famoso film aveva un'espressione dici qualcosa di sinistra ed era riferito ad un segretario politico della vecchia nomenclatura come per dire noi che siamo la base, noi che crediamo in quello che tu ci dici vorremmo sapere qualcosa di sinistra. Cambiano i segretari, cambiano i nomi di questo partito, ma la sostanza è sempre la stessa. Qualcosa di sinistra ancora questo partito deve riuscire a dirlo. E guardate che in questo momento c'è un segretario che dovrebbe essere lo spirito vero della sinistra. Pierluigi Bersani che nonostante la bufera che si è abbattuta con le varie situazioni da penati, resta saldamente al ponte di comando e in occasione della presentazione delle candidature delle prossime amministrative fa la sua conferenza stampa. O i ragazzi mi raccomando, Crozza lo imita benissimo certo, non so se alla conferenza stampa c'era Crozza Bersani o era Bersani Crozza a parlare, però è gustosissimo riportarvi le parole di Gigi Bersani che dovrebbe dirci qualcosa di sinistra nel presentare il cartello dei sindaci, dei candidati a sindaci. Sono entusiasta delle candidature. Bisognerebbe tornare un po' indietro e ricordare a Bersani quello che il PD ha dovuto ingoiare con quelle che sono le candidature. A Genova ne avevano scelta una e ne è scappata un'altra. A Palermo avevano puntato su un candidato e il popolo ha deciso completamente diverso. Essere entusiasti quando il popolo non risponde a quello che tu dici diventa un po' difficile. Ma le parole che più ci hanno colpito sono queste. Per le prossime amministrative emergono considerazioni che sono chiare. Prime tra tutte in questa campagna elettorale i nostri candidati si troveranno davanti a cittadini veri. La domanda che sorge spontanea è se fino ad oggi il PD ha potuto contare su cittadini che mettevano solo e esclusivamente la crocetta che non avevano il coraggio di tornare indietro e di dire dicci qualcosa di sinistra. Avere di fronte cittadini veri e dire finalmente avremo di fronte per la prima volta cittadini veri fa lasciare il dubbio, lascia il dubbio che quelli che ci sono stati fino adesso hanno semplicemente obbedito. Metti la crocetta, zitto e taci. Ma ce n'è un'altra di occasione da ricordare. Questa per il PD è una grande occasione per essere in campo e parlare con la gente e andando porta a porta interpretando e misurando il profondo disagio che vivono in questo momento di crisi. Poi ragazzi, non scherziamo, vorresti dire caro Gigi che finalmente i candidati scenderanno in piazza e parleranno con i cittadini porta a porta. Ma quelli che sono stati eletti fino ad oggi tornano in piazza, ci vanno porta a porta o la tengono la porta aperta per ascoltare i problemi dei cittadini. In un momento come questo, dove la gente è sfiduciata dalla politica, bisognerebbe davvero parlare con toni di sinistra, bisognerebbe davvero saper dire qualcosa di sinistra. Già, perché se non ve ne siete accorti, sempre più spesso i cittadini non hanno fiducia in voi e sempre più spesso sarà difficile dire al cittadino metti la crocetta, perché non vorremmo che da quel entusiasmo i casi di Genova e di Palermo tornino a ripetersi e che magari quel popolo che una volta da bue metteva la crocetta, stavolta sceglierà di non farlo. Nonostante è tutto, la mia più cordiale, buona serata.